Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori e benvenuti a questo spazio speciale di approfondimento rispetto a un evento molto importante che si è svolto in Abruzzo presso la sede del Consiglio regionale che ringraziamo per l'ospitalità, vale a dire la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra le reti europee in Abruzzo, tutti i soggetti che si occupano di disseminare i messaggi, i valori e anche le opportunità dell'Unione Europea sul nostro territorio regionale per dar vita ad una rete di rete. E' stato firmato proprio in questa sala poco fa il verbale, il protocollo di collaborazione tra l'Europa e i soggetti che andremo a presentare e che parteciperanno a questo talk show televisivo grazie alla presenza in Abruzzo che davvero ci onora, di Antonio Parenti che è il capo rappresentanza della comunità europea nella nostra regione. Da remoto abbiamo collegato anche Alessandro Giordani da Bruxelles che è il capo Unità Networks della Digicom online, anche lui ci parlerà delle grandi opportunità aperte da questo strumento e ci sono a questo tavolo presenti tutti i protagonisti della giornata, in particolare i due soggetti promotori dell'incontro, della nascita oggi di una rete di reti europee in Abruzzo, vale a dire il Consorzio Punto Europa dell'amministratore unico Filippo Lucci e l'Università d'Annunzio, in particolare l'Europe Direct di Chieti, l'università rappresentata dalla professora Andrea Lombardi Nillo che è il delegato del Rettore alla Comunicazione, Annalisa Michetti che è la Presidente e la Referente dell'Europe Direct di Chieti. Io ringrazio anche Paola Casalena che è la responsabile del Europe Direct Abruzzo che ha in qualche modo coordinato insieme ai soggetti promotori tutto ciò che è stato possibile realizzare questa mattina, compresa questa trasmissione. Noi naturalmente cercheremo di usare, lo faranno sicuramente i miei interlocutori, il tono più confidenziale, anche di maggiore semplicità perché l'Europa è anche un messaggio a volte difficile da comunicare. Sicuramente l'obiettivo di questo nostro incontro sarà quello di rendere l'Europa vicina ai cittadini e per cui anche la scelta di veicolare sul principale network televisivo della Regione un messaggio come questo mi pare che sia molto significativo. Io questo lo lancio come primo spunto di riflessione al Dottor Parenti. Oggi è stato firmato un protocollo che in molte regioni sta dando vita, sta animando una rete di reti per l'Europa ma soprattutto è un momento in cui cerchiamo di far capire quanto l'Europa sia utile e vicina ai suoi cittadini, regione per regione, anche nei territori come quelli di una realtà come l'Abruzzo. Il valore aggiunto di una rete di reti è quello di fare sinergia tra queste diverse realtà che sono presenti nel territorio regionale, in caso di specie nell'Abruzzo. Perché l'Europa effettivamente molte volte è un animale difficile da spiegare, è molto più facile discutere di politica nazionale, l'abbiamo fatta con le recenti elezioni per più di un mese, è molto più complicata a volte decidere a discutere di un finanziamento per un'opera, di quello che il Next Generation EU vi porta attraverso il PNRR, già in una frase ho fatto tre acronimi, senza raccontare ad esempio chi definisce o chi stabilisce le regole sui prodotti che noi mangiamo o sui giocattoli con i quali i nostri bambini si divertono. L'Europa è tutto questo, è molto questo, è molto di più, è anche una comunità di valori, è sempre più una comunità di valori, una comunità che deve fare a fronte in questo periodo, tra l'altro a sfide incredibili. Una rete di rete serve a fare sinergia, serve a permettere a quelli che sono gli strumenti principali della discussione europea in una regione, gli uffici Europe Direct, gli EDIC, i centri di documentazione, gli uffici Solvit che servono per facilitare il rapporto laddove ci siano problemi legati alla mancata implementazione di una legge europea, servono tutti, servono proprio a fare appunto sinergia, a permettere di avere una comunicazione più efficiente con il cittadino, ma che è una comunicazione che deve essere bidirezionale, dunque non soltanto l'Europa che va dal cittadino, ma che anche il cittadino riesca ad avere sul proprio territorio la presenza dell'Europa. Dunque centri di documentazione, le università, i comuni, le regioni sono tutte istituzioni che in questo momento attraverso questo accordo che oggi viene stato firmato danno quel valore aggiunto che noi fortemente crediamo perché lo prevediamo questo accordo di accordi alla comunicazione e alla vicinanza dell'Europa ai cittadini. Grazie, io vorrei coinvolgere Alessandro Giordani in un intervento che appunto sarà anticipato proprio perché ha altri impegni, ma appunto gli farò quindi magari forse anche più di una domanda. La prima è relativa proprio a questo accordo firmato questa mattina, vale a dire a come possa essere potenziato il lavoro già capillare che viene svolto da tutti i soggetti che hanno avviato ma ormai da anni reti europee sul nostro territorio con una rete di reti che metta insieme anche uno scambio di informazioni, uno scambio di opportunità tra tutti loro in una dimensione regionale. È questo l'obiettivo che vuole cogliere anche l'Unione Europea? Sì, grazie a tutti, spero mi sentiate e sarò breve su questo e cerco di rispondere alla domanda in maniera puntuale. Io sono particolarmente grato non solo per questo invito ma per questa cosa che avete fatto perché non vi nascondo che siete i primi, a parte alcuni progetti pilota che abbiamo avuto, a dare sostanza a quello che era un obiettivo che la Commissione Europea e la Direzione Generale di Comunicazione della Commissione Europea si era data in maniera prioritaria, a partire da quello che era il mandato di questa Commissione con la Presidente von der Leyen che ha detto che fin da subito l'Europa va portata oltre le capitali, quindi nei territori. Se vogliamo creare un'opinione pubblica di livello europeo che possa non solo essere informata ma anche discutere, apprezzare o manifestare anche delle criticalità rispetto alle questioni europee, lo dobbiamo fare nei territori. Allora perché questa iniziativa che noi abbiamo lanciato in capo, soprattutto in capo ai nostri centri Europe Direct, ringrazio qui Chieti, Teramo e il terzo Europe Direct che si aggiungerà qui in Abruzzo, proprio perché sono stati loro i protagonisti, come tutti gli altri Europe Direct, della costruzione di questa rete di reti che poi si manifesta a livello regionale. Noi abbiamo dato delle task, quindi dei compiti specifici alle nostre reti Europe Direct, quindi nella fattispecie ai centri Europe Direct dell'Abruzzo, uno dei quali, l'ultimo dei quali ma non certo in ordine di importanza era quello di cercare di federare in qualche modo tutte le manifestazioni dell'Europa sul territorio di una data regione, poi l'Italia ha evidentemente scelto in maniera logica i confini di una regione, poi le cose possono anche essere ritagliate in maniera diversa secondo poi delle territorialità dei vari Stati membri, ma di federare tutte quelle che sono le manifestazioni dell'Europa su un territorio attraverso un qualche cosa che noi burocraticamente chiamiamo una rete di reti, una network of networks, ma che poi in realtà per il cittadino deve avere anche una presentazione molto più semplice, che abbiamo chiamato, che vorremmo che si chiamasse, e ringrazio appunto voi per averlo fatto, l'Unione Europea in Lombardia, in Abruzzo, in Andalusia, in eccetera. Questo perché? Perché anzitutto è la prima volta che noi come Bruxelles prendiamo l'iniziativa di unire, unire poi non vuol dire fondere le varie reti europee che abbiamo sul territorio, ma unirle dal punto di vista della prospezione che hanno per il cittadino, cioè se il cittadino riesce a sapere che in Abruzzo tutto ciò che l'Unione Europea può offrire sul nostro territorio ha un unico punto di accesso, si presenta in modo coordinato, ebbene abbiamo la possibilità di dare un servizio molto maggiore. Noi abbiamo anche proposto, e voi lo avete firmato adesso, un accordo tra queste reti proprio per poter avere anche una dimensione di promozione dell'Europa in tutte le sue articolazioni alla cittadinanza dell'Abruzzo e delle altre regioni, ma vorrei dire, ed è questa la cosa forse anche più importante e la novità, che questa è una cosa utilissima anche per noi di Bruxelles, perché nel momento in cui andranno comunicati, e per i prossimi mesi sarà sempre più vero, ad esempio i progetti concreti che per Next Generation EU e per il nostro, il piano italiano, il PNRR italiano, ricadono sull'Abruzzo, ebbene questi progetti, così come i progetti della politica di coesione peraltro, si possono articolare su varie forme e possono avere come gruppo target di cittadini dei gruppi appunto diversi. Il fatto che ci si possa appoggiare su più reti specializzate, quindi su delle reti che magari hanno un target di politica europea specifico, penso a Eurodesk, penso a Enterprise Europe Network, piuttosto che i nostri centri Europe Direct che hanno una vocazione più generale, è un valore aggiunto enorme, perché ci si può dare tra le reti europee presenti ad esempio in Abruzzo, una sorta di divisione del lavoro, per cui se c'è da comunicare un progetto, un'iniziativa, una riforma europea, una dimensione che riguarda soprattutto un ambito e un tipo di pubblico rispetto ad un altro, potersi appoggiare su reti che hanno delle specializzazioni e dei gruppi target diversi, è sicuramente qualcosa che moltiplica ancora di più la nostra capacità di parlare alle persone giuste sui territori. Quindi io vi ringrazio assolutamente non solo per aver preso l'iniziativa, ma anche per essere stati, direi, i primi, praticamente i primi a raggiungere in maniera così anche formalizzata quello che noi riteniamo essere fondamentale. L'obiettivo è che tra un po' e dentro questa generazione di centri Europe Direct nascano altrettante Unione Europea in Baviera, Abruzzo, Lombardia, Andalusia, Jutland eccetera, quante sono le regioni d'Europa, proprio per federare tutto quello che l'Europa può offrire su un dato territorio. Per comunicare ai cittadini abruzzesi che ci stanno vedendo in televisione, quando e quanto dal punto di vista delle risorse, l'Europa cambierà la loro vita grazie al Next Generation EU? Next Generation EU, come voi sapete, ma credo che poi Antonio Parenti lo possa dire anche meglio di me, è un cambio di paradigma, non è solamente un nuovo programma comunitario che si aggiunge ad altri programmi comunitari. Qui abbiamo infranto un tabù nel 2020 in reazione della pandemia che era quello di dire che per la prima volta mettiamo insieme delle risorse, facendo anche debito pubblico europeo, gli Eurobond, per dei beni pubblici di livello europeo. Il PNRR è stato definito dall'Italia insieme alla Commissione Europea per qualche cosa che non è solamente per l'Italia, ma che è la necessità che ha l'Italia di rendersi competitiva e di riformarsi per potersi rendere competitiva in Europa a beneficio di tutta l'Europa. Voi sapete che la quantità di risorse che Next Generation EU ha dedicato all'Italia è molto superiore al peso proporzionale dell'Italia, perché per la prima volta Next Generation EU è figlio di un discorso di solidarietà europea, ma soprattutto nel PNRR italiano, ci terrei a sottolineare, non ci sono solo opere, investimenti, ponti, strade, eccetera, ma ci sono le cosiddette riforme abilitanti, cioè quelle riforme che l'Italia sta discutendo da molti anni e che sono riforme di sistema e che vengono chiamate abilitanti proprio perché sono il presupposto perché poi i finanziamenti nelle opere concrete abbiano un risvolto concreto. Non c'è niente di più concreto di questo, perché vuol dire poi riformare anche dei settori principali dello Stato, pensate alla concorrenza, pensate alla pubblica amministrazione, eccetera, e per poi poter beneficiare di una quantità di risorse che effettivamente è senza precedenti, ma questo credo ormai lo sappiamo tutti. Grazie, grazie. Lei sarà sicuramente il futuro interlocutore di questa rete di reti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, quindi ci vedremo. Sono io che vi ringrazio. Grazie. Passiamo ora ai soggetti che hanno avviato questo processo e hanno incoraggiato questo processo di nascita del super network, chiamiamolo così. A proposito di network parlo con un collega, perché Filippo Lucci è anche un collega giornalista, potrei dargli tu, così come Andrea Lombardinillo, che sono i primi che coinvolgerò proprio da esperti della comunicazione. Ecco, una delle difficoltà che accennavamo poi anche dialogando con Antonio Parenti è quella di rendere l'Europa più vicina ai cittadini dal punto di vista proprio del sapere, semplicemente, quali sono le opportunità. Questo vale anche per le imprese. Allora c'è un salto di qualità, Filippo, di tipo culturale che nasce, con la rete di reti in una regione invece fatta di mille campanili e anche di mille iniziative meritorie, consolidate, partite negli anni, che però adesso hanno un'ambizione superiore. Assolutamente sì, però diciamo che tutte queste differenze, tutti questi campanili messi insieme rappresentano una grande forza di questa regione, del nostro territorio e quindi cercare di comunicare le opportunità che arrivano dall'Europa, le politiche europee diventa fondamentale, perché oggi comunicare non vuol dire soltanto e solo informare i cittadini, ma sempre di più crescita, lavoro, trasparenza, capacità di fare innovazione e questo è quello che noi puntiamo di fare mettendo insieme le eccellenze abruzzesi che si occupano di politiche europee, di Europa, un'Europa non più astratta, lontana, difficile da raggiungere ed anche da comprendere, da capire, ma sempre più vicina, sempre più utile, sempre più concreta. È uno sforzo importante che devono fare le istituzioni e qui ci sono le istituzioni della nostra regione insieme per avviare un percorso che non sarà semplice, non sarà difficile, sarà complesso soprattutto a renderlo concreto, perché oggi c'è bisogno di concretezza, c'è bisogno che le amministrazioni, anche i piccoli comuni, le grandi realtà, possano capire che l'Europa è un valore, è un valore vero, ci sono le risorse, partita la nuova programmazione 2021-2027 ci saranno tante risorse e noi siamo sempre troppo indietro come regione per poterle investire tutte, da sempre, ma non come regione Abruzzo, come sistema paese e quindi fare lo sforzo di mettere in campo tutte le competenze, le energie per comunicare di più e meglio e soprattutto per far conoscere le opportunità, anche i ragazzi diciamolo, perché gli Erasmus come gli appuntamenti, le esperienze all'estero, le esperienze di lavoro all'estero, oltre che di formazione, sono sostenute ampiamente dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo, noi stiamo organizzando proprio in questi giorni alcune visite in Parlamento con delle scuole, con i portatori di interessi, con le imprese, per far sì che questa distanza sia sempre più colmata, possa essere più vicina all'Europa, al territorio, anche aprendo delle sedi, abbiamo aperto oltre la sede principale a Teramo con il nostro capo rappresentante della Commissione Parenti, abbiamo aperto una sede a Giulianova, una sede qui all'Aquila con Abruzzo in Europa, al Gran Sasso Science Institute e lo stiamo facendo su Pescara, quindi cerchiamo di essere presenti sul territorio e dare questo segnale di un'Europa che vuole esserci ma vuole anche contribuire alla crescita dei territori. Grazie Filippo, Andrea, anche a te do del tubo, appunto collega giornalista, delegato del Rettore dell'Università d'Annunzio alla Comunicazione. L'Università diceva anche Filippo che non si limita soltanto agli Erasmus, finora l'approccio con l'Europa era limitato ad un progetto che sia pure riuscito, fortunato, ma anche sicuramente intelligente, ha consentito a tanti studenti di viverla l'Europa, ma ha una disseminazione più generale sul territorio, per questo è nato operativo ormai da un decennio ed oltre, lo Europe Direct che voi avete promosso e sollecitato e soprattutto l'Europa deve essere, io penso, anche la vita quotidiana di un'università che vuole saldarsi col suo territorio. Grazie, un sociologo della comunicazione non può far altro che apprezzare l'accento ripetuto e insistito sul termine comunicazione, termine che state utilizzando con molta naturalezza e devo dire è anche con molta determinazione, perché se parliamo di comunicazione dell'Europa parliamo di conoscenza dell'Europa, se parliamo di conoscenza dell'Europa parliamo di spirito critico e soprattutto della capacità di saper intercettare determinate fluttuazioni di cambiamento, però saperle anche gestire e comprendere. Il centro Europe Direct del nostro Ateneo, che è diretto dalla professoressa Fausto Aguarello, il centro rappresentato oggi qui dalla professoressa Paola Puoti del Dipartimento Scienze Giuridiche e Sociali, ed è un centro animato, gestito e davvero vitalizzato con grande passione, entusiasmo e competenza dalla dottoressa Annalisa Michetti. È molto più di uno sportello, è un'interfaccia tra l'istituzione accademica e la comunità studentesca. Tra le altre cose il nostro sportello, il nostro centro Europe Direct è posizionato a una collocazione centrale all'interno del campus universitario, non soltanto naturalmente un'attività informativa interna e interattiva, ma anche evidentemente l'obiettivo di stringere sinergie con vari attori professionali. Penso al ciclo di incontri formativi realizzati in sinergia proprio con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, penso a tutta una serie di iniziative formative rivolte ai docenti della scuola media superiore attraverso la prenotazione sulla piattaforma Sofia. Queste sono soltanto alcune delle iniziative che sono costantemente in fieri e in cantiere, soprattutto perché crediamo nella sinergia permanente e quotidiana con i nostri studenti. Noi abbiamo un bacino d'utenza molto ampio, molto diversificato anche a livello regionale e parlare d'Europa significa evidentemente parlare certamente del nostro futuro, ma soprattutto del futuro dei nostri giovani. Direttore, mi avevo permesso di essere agile e quindi mi fermo per il momento qui. Grazie a Andrea Lombardi Nillo. Allora passiamo a presentare in breve, con gli stessi tempi, l'attività dei soggetti firmatari di questo incontro e in generale dei soggetti che svolgono già attività di sportello europeo, sportello è un'accezione un po' limitativa, comunque di punto di riferimento più in generale dell'Europa sul territorio abruzzese e sono rappresentati in questo talk. Io cito anche Antonella Ballone che è firmataria per la Camera di Commercio del Gran Sasso, la sua Presidente, l'accordo di questa mattina. Partirei dalla Regione, intanto perché siamo in Regione, ma poi perché la Regione è l'interlocutore iniziale, istituzionale per la gestione di fondi europei sin dalla sua istituzione, quindi Fondo FSE e Fondo FERS. Quindi partirei da Carmine Cipollone che è il responsabile del servizio dell'autorità di gestione per dire che c'è un'attività che viene a rafforzarsi, suppongo, alla luce di questo network che nasce in Abruzzo, soprattutto perché c'è un tema di comunicazione che non è soltanto quella che stiamo facendo in televisione, ma anche di comunicazione ai portatori di interesse delle opportunità che vengono da questi fondi, rispetto ai quali chiedo anche un po' l'Abruzzo come messo, a che punto siamo sugli impegni e sulla spesa. Grazie, buongiorno a tutti. Diciamo che tutti i discorsi fatti finora vanno in una direzione che è del tutto similare a quella che stiamo cercando di seguire. Opportunità come quella di oggi per noi sono sicuramente molto positive, le apprezziamo al punto tale che ogni volta che veniamo coinvolti siamo sempre presenti a fianco di queste strutture Europe Direct. Ma diciamo che siamo particolarmente interessati perché per la strategia 21-27 siamo la regione che nell'ambito delle politiche regionali di coesione finanziate dall'Unione Europea, siamo la regione italiana che ha avuto l'incremento maggiore in termini di risorse, un po' perché eravamo stati penalizzati prima, un po' perché effettivamente ci sono dei gap da colmare. E quello che cerchiamo di far comprendere al nostro partenariato è proprio questo, che riceviamo risorse proprio perché abbiamo necessità di colmare dei gap con altri territori dell'Unione Europea. Quindi l'importanza di individuare le giuste iniziative è fondamentale. In questo ecco proprio l'aspetto delle risorse e l'aspetto come è stato prima sottolineato magari anche delle carenze che fin'oggi si sono verificate nella gestione dei programmi ci stanno spingendo nella predisposizione, realizzazione di una serie di strategie che partono dalle strategie delle risorse organizzative per cui dobbiamo sicuramente attrezzarci meglio noi come regione ma stiamo puntando molto sulle strategie di miglioramento di capacità amministrativa dei beneficiari e destinatari degli interventi e soprattutto degli enti territoriali. Quindi nei nostri programmi FESRA e FSE stiamo prevedendo una serie di iniziative che coinvolgono a pieno titolo i territori sia da un punto di vista istituzionale che da un punto di vista associativo. Partirà a breve tutta una serie di attività abbastanza intensa proprio con i territori. Il focus, la regione ci ha scommesso parecchio perché nei prossimi programmi abbiamo destinato circa 82 milioni nell'ambito del FESRA alle strategie con i territori e almeno altri 30 milioni li abbiamo messi specificamente per i territori nell'FSE. Quindi la sfida è rilevantissima. In tutto questo ecco quello che ci lega è anche una strategia di comunicazione che effettivamente è stato finora uno degli elementi che non ci hanno visto brillare particolarmente seppur tanti sforzi sono stati fatti e quindi auspichiamo questa tipologia di organizzazione. Le reti per noi sono fondamentali perché consentono di migliorare anche la nostra capacità di avvicinamento ai cittadini. Quello che dobbiamo in questo caso nel caso nostro far comprendere è che ciò che realizziamo, ciò che facciamo non è una semplice distribuzione di risorse ma è l'individuazione di quei progetti che ci consentono di avvicinarci a altri territori dell'Unione Europea. Non solo era importante il futuro e quindi magari il futuro per i nostri studenti e i nostri ragazzi ma l'FSE soprattutto ci spinge al presente, migliorare la qualità di vita dei cittadini e della nostra regione da subito e quindi questa sarà una particolare nostra attenzione e particolare attività e in questo la sinergia con le strutture di comunicazione e con questa rete sarà sicuramente sempre più forte. Quindi mi complimento per la capacità di unirsi e di realizzare questa struttura e sicuramente faremo ricorso anche noi e saremo anche noi partner di queste strutture. Grazie. Grazie a lei. Restiamo in casa Regione. Credo anche a nome dell'assessore Pietro Guaresimale do la parola a Renata Duranti che è la direttrice del Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione Abruzzo proprio per parlare delle opportunità che sono già presenti appunto approfittando anche di questo spazio televisivo ma anche di quelle che si aprono adesso con Next Generation New per promuovere l'occupazione e la salvaguardia dello Stato sociale, del nostro welfare sul territorio. Prego. Grazie e buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io come il collega di questa iniziativa che ci porta innanzitutto ad un confronto con soggetti con i quali già da tempo stiamo lavorando, interloquendo e sensibilizzando sul tema delle opportunità che l'Europa offre e sono tante come si diceva. Nel caso specifico nel nostro Dipartimento ovviamente è un Dipartimento che si occupa in particolare di lavoro quindi è già chiamato da tempo a gestire attraverso gli uffici EURES tutta la tematica sorti già nel 1992 quindi tutte le opportunità che l'Europa già da tempo offriva soprattutto ai giovani di mobilità geografica mettendo a disposizione una piattaforma dedicata e sul territorio europeo voglio dare dei numeri per dar conto di quanto la Commissione europea ha investito da tempo su questa tematica della possibilità di migliorare l'incontro fra domande e offerte fra Stati membri. Sono circa mille i consulenti EURES sul territorio regionale ma anche in Abruzzo, va detto abbiamo risposto in maniera molto convinta a questa opportunità perché in ogni centro per l'impiego abbiamo un consulente EURES, sono tre in particolare, un lane manager e degli assistenti che dovrebbero aiutare le candidature ma anche i paesi terzi a presentare le proprie offerte. Si parla di rete, una rete è stata costituita proprio per decisione della Commissione del Parlamento europeo e la PES Network che è nata nel 2014 e ha voluto proprio mettere insieme le reti di tutti i centri per l'impiego a livello nazionale che sono coordinati dall'AMPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nata con il decreto legislativo 150 ed ha un focus importante perché il campo si è aperto, se mi posso permettere, non soltanto ci stiamo occupando di mobilità come opportunità di lavoro all'estero ma anche studiare attraverso altri punti e in particolare gli Europe Guidance, cioè cercare anche di puntare sull'aumento della qualità dell'istruzione e della formazione mirata anche sulla base delle esigenze che gli stati membri ci comunicano, per questo è importante la rete con le università, con i punti Europe Direct, io su questo mi riaggancio a quanto è stato detto, quale iniziative sono state fatte? Tante, dai seminari aggiornate di Recruitment Day su delle figure specialistiche e poi come si è detto con le università abruzzesi, importante sono state le campagne di sensibilizzazione, siamo andati negli istituti secondari, in particolare nelle classi quarte e quinte, per dare loro notizie, informazioni, i ragazzi spesso sono spaventati da queste poche conoscenze, si è detto di quante effettivamente opportunità ci sono, ma anche con la Camera di Commercio che vedo qui rappresentata anche dalla Presidente Ballone, stiamo mettendo avanti delle iniziative nuove per portare, attraverso le iniziative che ci daranno anche dei feedback sicuramente le nostre aziende locali, per portare dei tirocinanti dai paesi terzi nelle nostre aziende. Questo scambio riteniamo sia fruttuoso, non soltanto per le nostre aziende, ma anche per uno scambio di buone prassi, cioè non possiamo non aprirci all'Europa su tutti i canali, istruzione, formazione e lavoro. E sul lavoro, per concludere, chiudere in maniera un po' dinamica e snella questo intervento, mi volevo riagganciare quanto è stato detto dal dottor Giordani, è importante come in Italia il PNRR venga utilizzato non soltanto per, si è detto, per i ponti, cioè per spese infrastrutturali, ma anche per migliorare la qualità di vita del cittadino e in particolare sull'occupazione. E l'Abruzzo, lo voglio dire, ha risposto subito a questo appello presentando e approvando un PAR, un piano appunto di attuazione del progetto di un programma molto vasto, ripeto l'acronimo EGOL, Garanzia Occupazione Lavoratori. Soltanto per il primo anno la Commissione europea ha messo a disposizione 20 milioni di euro per reinvestire sia sui centri per l'impiego, ma soprattutto su un nuovo approccio nell'offrire le politiche attive, in particolare per tutti i soggetti disoccupati di lungo periodo e per i giovani, i cosiddetti NIT, coloro che non studiano, non sono inseriti in un percorso di formazione e non lavorano. Tutto questo però sarà possibile anche attraverso i punti Europe Direct, noi dobbiamo fare comunicazione, è un progetto molto molto importante, metterà tante risorse sul territorio, ma abbiamo bisogno di dare diffusione e stiamo per questo organizzando delle giornate, colgo anche l'occasione, proprio sulle quattro province abruzzesi per presentare queste iniziative insieme ovviamente all'autorità di gestione, ma sarà importante anche il coinvolgimento di tutte le reti che abbiamo sul territorio che parlano all'Europa e parlano dell'Europa. Grazie. È fondamentale anche il lavoro delle istituzioni locali nel dar vita a una maggiore conoscenza e consapevolezza delle opportunità per l'Europa. Su questo voglio coinvolgere Silvia Lancia che è assessora delle politiche giovanili del Comune dell'Aquila, anche perché l'Aquila vive un momento particolare anche rispetto per esempio ad opportunità aggiuntive come sono quelle offerte dal fondo complementare al PNRR per le aree del sisma. Dunque occasioni irripetibili ma che necessitano proprio di un lavoro di filiera sia nella comunicazione sia poi nell'ottimizzazione dei programmi per ottenere la messa a terra di questi fondi. Assessore. Sì, assolutamente sì. Salve a tutti. Il plauso naturalmente iniziale è per questa iniziativa che mi rende orgogliosa ed è anche una delle prime iniziative cui ho l'onore di partecipare visto il mio recente insegnamento. Ma non voglio parlare di me, voglio cogliere anche l'invito alla sintesi senza trascurare però l'occasione di riflessione che la sua domanda mi pone. La prima intanto per quanto ci riguarda l'Aquila, il Comune di L'Aquila è la struttura ospitante del punto Eurodesk. Eurodesk è il programma strutturato europeo Erasmus che offre occasioni di formazione, di impiego, di mobilità europea ai giovani. Vedete su questo anche riprendendo in parte ciò che chi mi ha preceduto ha detto, va sottolineato un cambio di passo o un'evoluzione nelle declinazioni, nella declinazione europea delle politiche giovanili che parte dalle linee strategiche di Lisbona eccetera, sull'approccio. Cioè questi ragazzi che possono usufruire di questi programmi cominciano ad essere non solo, non tanto e non più i fruitori ma gli attori. Quindi testimoniano in quella visione che molti hanno ricordato di relazione che cos'è l'Europa nella relazione umana. Guardate questo è un passaggio secondo me importante che per molti aspetti abbiamo anche cercato in maniera anche come dire qualche volta critica nell'accezione positiva del termine. Quindi questo è sicuramente il primo passaggio del resto del comune di L'Aquila a una, come dire, substrato sociale giovanile molto interessante perché abbiamo la comunità afghana, quella ucraina oltre naturalmente a tutta l'importanza dei ragazzi e degli universitari. Quanto invece alla seconda parte della sua domanda importantissima che è che faceva riferimento all'implementazione e all'aspetto del piano complementare. Noi abbiamo avuto in una sinergia fra enti locali, quindi non soltanto il comune dell'Aquila ma anche tutti quanti i comuni del cratere un'implementazione del fondo per circa 20 milioni di euro e si tratta di una dotazione che è stata attraverso un lavoro di squadra congiunto tra il sindaco ma anche tutti gli altri attori dei comuni via via implementata. L'Aquila avrà circa la fruizione del 25% di questa somma che si va ad aggiungere agli altri fondi già esistenti sulla ricostruzione andando a sanare un gap cui l'Europa in questo caso pensa. Qual è l'impatto di queste situazioni sugli enti locali? Tanti. Una questione sulla quale ci siamo confrontati immediatamente è quello della governance perché per esempio l'Aquila ha un know-out per storia perché ci siamo dovuti confrontare anche sulla questione dei fondi del Sisma e si è già formata, abbiamo molti giovani formati ma nella misura in cui queste dotazioni coinvolgono direttamente non soltanto nella programmazione ma poi vedremo anche nei controlli le amministrazioni locali richiama il tema della sussidiarietà e della necessità di avere personale specializzato, questa è una questione aperta ma insomma ci lavoriamo tutti insieme. Quanto invece è importante per le imprese che nasca questa rete di reti in Abruzzo che aiuti anche a comprendere la rilevanza di incentivi, di misure, di programmi e la possibilità di accedere al sostegno di Bruxelles per le attività in un momento dell'economia particolarmente complesso, per non dire altro come quello che stiamo attraversando. E' quello che voglio chiedere a Giovanni Marcantonio che è project manager presso l'agenzia di sviluppo dell'azienda speciale della Camera di Commercio Chieti-Pescara. Grazie, subito per rispondere alla domanda ce lo faremo dire dalle imprese quanto sarà importante questa rete, questa alleanza di imprese per le imprese, tra reti per le reti. Sottolineo che oggi facciamo un passo, abbiamo formalizzato qualcosa di estremamente importante per tutto quanto il territorio, c'è un impegno a iniziare a attivare dei canali formali, ufficiali e stabili di comunicazione in primissimo luogo all'interno delle nostre strutture. Perché credo che il grado di conoscenza di una struttura, di una rete dell'ata non sia ancora al massimo, non sia ancora al 100%, quindi quell'azione di comunicazione adesso noi sarà opportuno che la rivolgeremo innanzitutto verso l'interno, così per avere nessun dubbio per fare quel concetto, quell'approccio che la Commissione Europea qualche decennio fa, facciamo il no wrong door, ogni beneficiario, ogni cittadino che poi sia consumatore, sia imprenditore, sia aspirante imprenditore, sia studente, possa rivolgersi nella maniera corretta alla porta che la Commissione Europea mette a propria disposizione. Cos'è Enterprise Job Network? Giusto che stiamo facendo anche un'attività di comunicazione, questa verso l'esterno, intanto è una rete che fa riferimento alla VG Grow, come rete è nata nel 2008, ma è nata come fusione da due reti precedenti, cioè quella dell'Eurinfo Center e quella dell'Innovation Relay Center. Dal 2008, quindi tutto sommato è abbastanza nuova, ma ha portato al proprio interno i temi che erano proprio delle reti precedenti, cioè quelli dell'internazionalizzazione, quelli dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, e buon ultimo, si fa per dire, visto che adesso abbiamo parlato solo di questo aspetto, è quello dell'accesso al mercato unico, tanto nella parte relativa alla normativa, alla regolamentazione, che in alcuni casi si verrebbe di disoffoca, ma diciamo così, imbriglia in maniera abbastanza forte le nostre imprese, quanto quella che qui è stata risaltata, quello di accesso ai fondi. L'obiettivo di questa rete, che al momento conta circa 600 partner in oltre 60 paesi, chiaramente non solo in Europa, ma nel mondo, quindi vi dà la dimensione di questa rete, è quello di aiutare le imprese ad innovare ed a crescere sui mercati internazionali. Quindi il compito è abbastanza preciso, è abbastanza chiaro, e richiede la messa in campo di una serie di servizi, piuttosto che di informazione e di orientamento, ma soprattutto quelli di assistenza, e perché no, da quest'anno, da questo quadriennio, da questo quadriennio, da 2022-2025, che è l'attuale periodo che stiamo vivendo con il nostro progetto di Enterprise Europe Network, anche di fornire servizi di consulenza. Sì, è una parola che non deve spaventare, perché questo vuol dire che si è spostata verso l'alto l'asticella e si è alzata anche di molto, perché ci si è reso conto che l'assistenza alle imprese deve essere molto fattiva, quindi sul territorio, quindi il più ampio possibile. In Italia ci sono sei consorsi di Enterprise Europe Network, il nostro consorzio che si chiama Bridge Economies, racchiude le regioni che vanno a Bruzzo, Munizio, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. L'obiettivo di tutte queste realtà è quello di stare vicini alle imprese per far che cosa, per aiutarle ad aumentare il proprio livello di competitività. E lo si può fare in svariati modi, alcuni sono gli strumenti principi di questa rete, uno di tutti è il partenariato. La ricerca di partner è per tutti quanti gli aspetti che vi abbiamo qui posto alla vostra attenzione, cioè quello della parte commerciale, quindi la business cooperation, ma c'è anche la cooperazione a livello di tecnologie, per far aumentare, per importare, per fare trasferimento tecnologico, e buon ultimo la ricerca di partner a livello di partecipazione a fondi pubblici, che sono da noi visti prevalentemente come uno strumento per raggiungere degli obiettivi che sono all'interno di una strategia aziendale. Buon ultimo, da quest'anno, a questo periodo di programmazione, la Commissione Europea ha voluto dare alla rete Enterprise Network il ruolo di un'unica realtà, perché non importa da dove l'impresa entri in contatto con noi, verrà messa in contatto con tutti quanti gli appartenenti alla rete. Quando dico tutti quanti, non solo quelli sul territorio del progetto di riferimento, vi ripeto, Valenza Interregionale per quanto riguarda Bridge Economist, ma anche internazionale. E questo sicuramente è il punto di una rete, ed è il punto di forza di una rete, soprattutto quello di parlare un linguaggio comune. Ecco, il prossimo passaggio sarà quello di utilizzare un linguaggio comune che ci permetta di ancora di più portare, far portare, perché anche gli altri devono comunicare, bisogna fare un po' di advocacy per far portare la conoscenza delle nostre reti sul territorio. Due sono i punti, Chieti Pescara con Camera di Commercio, l'azienda speciale, e l'altro nella Camera del Gran Sasso. Grazie dottor Marcantonio. C'è poi tutto il mondo dell'associazionismo, dei cittadini, quelli che hanno dato vita, come nel caso dell'interlocutore che sto per presentare, all'associazione Labruzzo in Europa. Faccio leva su questo gioco di parole. Labruzzo, voi avete cercato di dare voce a livello europeo, ed ecco che oggi siamo al momento dell'Unione Europea in Abruzzo, che è il titolo di questa giornata. Associazione che è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ringraziamo appunto anche per ospitarci in questa prestigiosa veste, e che è rappresentata qui da Fabio Petricca. Sì, l'associazione Abruzzo in Europa rappresenta il segno più tangibile della consapevolezza da parte del Consiglio regionale dell'importanza della diffusione e della divulgazione delle politiche e dei messaggi dell'istituzione Unione Europea sul territorio abruzzese. In questo senso, diciamo che strategicamente la prima mossa è stata quella di partecipare insieme al COPE, alla fondazione di questo Europe Direct Abruzzo e in particolare di insediarci sul territorio del Comune dell'Aquila. Quindi l'attività dell'associazione si estrinseca in un'attività di formazione e informazione, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza dei programmi dell'Unione Europea e gestiti direttamente dalla Commissione, quindi anche fonti finanziarie gestite direttamente dalla Commissione accanto a quelli che sono i fondi strutturali poi gestiti dalla Regione a livello nazionale. In particolare la missione principale dell'associazione è quella di fornire un supporto tecnico nella progettazione ai comuni abruzzesi, ma nella consapevolezza che solo comprendendo a fondo quelli che sono gli obiettivi delle politiche europee possono essere presentate delle idee progettuali che poi siano in grado di colpire i valutatori europei e che siano meritevoli di finanziamento. L'associazione è relativamente giovane, infatti è stata resa operativa con la nuova legislatura del Consiglio regionale. Abbiamo iniziato subito la nostra attività purtroppo online da marzo 2020, ma abbiamo svolto tutta questa attività di formazione e informazione con grande partecipazione da parte dei comuni e delle associazioni del territorio abruzzese. Stiamo ottenendo già i primi risultati in termini di partecipazione alle call e anche in termini di captare questi fondi europei. Mi piace sottolineare proprio che nell'ultima tornata della call del programma CERV che ha assorbito il programma Europa per i cittadini ci siamo aggiudicati un progetto di town twinning con il Comune di Torranno Nuovo, quindi partirà questo gemellaggio con una città spagnola. Quindi l'invito è quello di contattarci proprio per soddisfare le esigenze di conoscenza delle politiche europee, ma soprattutto anche di scoprire quelle che sono le opportunità finanziarie messe a disposizione direttamente dalla Commissione e che attraverso un lavoro dal basso della cittadinanza, dell'associazionismo, dell'opera dei Comuni può essere intercettata e quindi far crescere tutto il territorio abruzzese. Grazie Dottor Pretiricca. Torniamo da dove avevamo cominciato, dalle università, dal ruolo rilevante che svolgono sia nell'attivazione di questi sportelli europei, sia nella crescita degli interscambi attraverso Erasmus, ma anche del livello della ricerca nei rapporti con altri Atenei e con realtà scientifiche in tutta la nostra casa che è l'Europa. Io chiedo quale opportunità in più, cioè da oggi alla professoressa Paola Pittià che è delegata del Rettore dell'Università di Teramo per l'internazionalizzazione? Bellissima domanda per un delegato all'internazionalizzazione. Io parto dall'ipotesi che l'università è un fulcro, è un punto centrale per quanto riguarda il triangolo della conoscenza verso l'innovazione e pertanto gioca ruoli diversificati nell'ambito della ricerca e dell'alta formazione. Alta formazione che oggi sempre di più è coinvolta nello sviluppo di quelle che sono le conoscenze e le competenze di quella che è e sarà la futura leadership, i managers della nostra realtà produttiva e del nostro tessuto sociale. E quindi su questo è molto importante proprio quello che abbiamo vissuto oggi qui della creazione di questa rete di reti europee perché consente e consentirà anche attraverso il CDE che abbiamo all'interno del nostro Ateneo di poter essere più vicini alle politiche europee e di avere degli interlocutori che ci permetteranno di modernizzare, di modificare, di variare, di aggiornare quelli che sono i percorsi formativi in linea con quelle che sono le politiche europee. Mi aggancio immediatamente anche su un altro piccolo aspetto che vorrei sottolineare che è quello della progettazione europea e anche l'Erasmus. L'Erasmus non è semplicemente mobilità e noi dobbiamo, come delegata all'internazionalizzazione, vuol dire anche per far permeare l'idea di un'Europa che è ormai parte della nostra vita quotidiana. Noi partecipiamo a progetti competitivi Erasmus da diversi anni, lo facciamo anche con un buon successo e abbiamo appena ricevuto notizia di un Erasmus Forward Looking dove lavoreremo sulle competenze nel settore agri-food con dei partner di alta caratura. Però vorrei sottolineare una cosa che questi strumenti ci devono permettere sempre di più di veicolare ai nostri studenti e futuri laureati e futuri professionisti quello che è lavorare in un ambiente, in un territorio che non è più quello regionale, che non è più quello nazionale ma è sicuramente quello europeo. E oggi abbiamo, secondo me, sviluppato e creato uno strumento molto importante proprio per loro. Adesso la professoressa Paola Puodi che è docente di diritto internazionale dell'Università d'Annunzio Chiedipescara. Faccio una domanda un po' più politica però ovviamente facendo riferimento al suo status di giurista. Mai come in questa campagna elettorale che è appena terminata si è parlato di Europa. Forse addirittura più che nelle elezioni europee. Questo perché c'è un tema di scollamento o di vicinanza tra l'Europa e i cittadini. Certo, parlare di lontananza, questo lo dico io da osservatore, quando dall'Europa arrivano quasi 200 miliardi tra prestiti e sovvenzioni soltanto in Italia nell'ambito del Next Generation EU non è facile e non è stato facile nemmeno in campagna elettorale. Tanto è vero che alcuni giudizi sono stati in qualche modo poi anche corretti, sono stati rivisti, c'è stato un processo anche delle forze più euroscettiche per rendere palpabile questo rapporto di vicinanza dell'Europa all'Italia. E anche ci sono stati risultati deludenti da parte di chi ha professato un'uscita dall'Unione Europea senza sé e senza ma. Questo lo dico da osservatore dello scenario del consenso italiano così come è maturato in queste elezioni. Però alla giurista chiedo se una costituzione materiale dell'Europa come dite voi rispetto alla costituzione delle istituzioni europee nasca proprio da momenti come questo, cioè nel momento in cui i cittadini capiscono l'utilità di strutture, di istituzioni, di quelli che a volte vengono anche dileggiati come baracconi sovranazionali. Quando invece l'Europa diventa un momento anche economicamente comprensibile anche facilmente accessibile al cittadino cambia anche quella che voi chiamate la costituzione materiale, professoressa. Sì, la ringrazio per questa domanda perché effettivamente io volevo partire proprio da una considerazione politica cioè la veramente carenza di conoscenza della effettiva influenza dell'Europa nei vari Stati membri e della importanza che hanno le politiche europee nella vita di tutti i giorni e di tutti i cittadini. Ora noi come Università d'Annunzio, io come già professore anche di diritto dell'Unione Europea, ora abbiamo un docente dedicato della materia ma io per tanti tanti anni ho insegnato anche Unione Europea abbiamo sempre cercato, prima con il centro di documentazione europea che noi abbiamo sempre avuto a pescare poi da quando è nato anche con lo sportello Europe Direct proprio di far capire innanzitutto agli studenti e alla cittadinanza con iniziative aperte l'importanza di queste politiche trattando temi che sono diciamo più vicini ai cittadini secondo il principio di prossimità come la cittadinanza europea e soprattutto la storia. La storia dell'integrazione europea, c'è un buco fondamentale che non è solo italiano, è un po' diffuso in tutta Europa non si conosce la storia degli ultimi cento anni cioè a scuola si arriva fino alla, dopo la seconda guerra mondiale è gravissimo, è gravissimo ora non la può colmare l'università né io personalmente per quanto riguarda l'adannunzio noi abbiamo fatto un'opera a tappeto con gli studenti del quarto e quinto liceo in tutto, non soltanto Chieti-Pescara ma in tante città abruzzesi e facendo venire con il programma alternanza scuola-lavoro da noi all'università gli studenti spiegando l'importanza intanto la storia contemporanea attraverso la storia dell'integrazione europea e la posizione dell'Unione europea e dei singoli stati membri nel mondo, nell'assetto globale e poi spiegando attraverso le politiche europee i temi più attuali dai temi ambientali ai cambiamenti climatici alla importanza della cittadinanza europea cioè i ragazzi non sono lei mi ha fatto una domanda politica è stata deludente l'elezione in Italia ma quanti ragazzi sono andati a votare quanti hanno capito l'importanza del voto quanti erano consapevoli di quali fossero le posizioni delle varie coalizioni rispetto appunto a poi le posizioni e le responsabilità che il nuovo governo dovrà assumere rispetto non solo all'Europa non solo alla posizione dell'Italia in Europa ma alla posizione dell'Europa nel mondo che è un riflesso quindi è chiaro che bisogna partire dal basso bisogna partire dal principio di prossimità dall'insegnare la storia contemporanea attraverso la storia dell'integrazione europea bisogna cominciare a dare maggiore consapevolezza ai ragazzi anche perché c'è un processo di apprendimento informale cioè i ragazzi arrivano a casa e spiegano ai genitori o comunque comunicano agli amici quelle che sono le nozioni che hanno appreso noi all'università un'altra cosa che abbiamo fatto è diffondere il servizio di volontariato europeo non lo conosce nessuno quindi noi abbiamo fatto venire da Roma dall'Agenzia della Gioventù esperti a spiegare che tutti i ragazzi possono partecipare a questo programma importantissimo che manda ragazzi italiani in Ucraina anche fuori sia nel mondo che in Europa o a assistere i bambini profughi o a fare sport alcuni sono stati in Islanda scusate se lo dico a raccogliere gli escrementi delle mucche sulle spiagge per esempio oppure a fare programmi ambientali altri sono stati invece in paesi dove hanno partecipato come istruttori a gruppi sportivi per promuovere lo sport qual è il valore aggiunto del servizio di volontariato europeo rispetto al servizio civile è quello che tu hai l'obbligo di imparare la lingua vai in Islanda devi comunque hai un argent de poche di poco però hai molte opportunità per capire anche la lingua del posto non basta l'inglese un'altra cosa che abbiamo fatto con il centro di documentazione europea è stata quella di organizzare anche in collaborazione con l'Union des Avocats Européens che in Abruzzo è molto attiva con la mia associazione io faccio parte del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Giuristi Europei che è federata affiliata alla Federazione Internazionale dei Drua Europei e noi abbiamo sempre ogni anno per i dottorandi per gli studenti anche per il pubblico da quando c'è Europe Direct fatto lezioni sull'accesso alle banche dati alle quali possono partecipare tutti i cittadini quindi per esempio l'imprenditore che ha bisogno di sapere quali sono i bandi noi spieghiamo o che ha bisogno di sapere quali direttiva è uscita o qual è in discussione in una particolare materia noi spieghiamo con una lezione una lezione abbastanza corposa dedicata con un esperto spieghiamo facendo navigare online proprio come si accede a tutte le banche dati dell'Unione Europea abbiamo fatto seminari per spiegare anche le opportunità per gli imprenditori col progetto Super facendo appunto invitando diciamo presso l'università esperti a parlare di questi di queste opportunità anche invitando esperti di euro progettazione dedicati proprio agli imprenditori quindi diciamo che l'università d'annunzio è particolarmente attiva grazie professoressa abbiamo concluso l'elenco dei partecipanti è ancora destinato ad ampliarsi io questo voglio dirlo perché si tratta di un accordo aperto appunto in tanti hanno magari ascoltato questa trasmissione televisiva e anch'io che l'ho diretta ho appreso tante cose che noi abruzzesi non conoscevamo su quello che fanno soggetti abruzzesi sul nostro territorio e questo io penso già sia un primo risultato il risultato ulteriore su cui chiedo appunto di concludere Antonio Parenti è quello di fare il salto di qualità successivo vale a dire passare dall'informazione poi anche all'adesione all'idea dell'Europa e al renderci utili ciascuno nelle proprie attività in questo caso le nostre di comunicazione quelle formative quelle di rappresentanza politica istituzionale di dirigenza nelle aziende nelle imprese e nelle strutture pubbliche far crescere ulteriormente questa rete e far crescerne soprattutto gli obiettivi e i contenuti ecco lei ha avuto di fronte questo spaccato d'Abruzzo come esce da questa giornata Presidente io ne esco ancora una volta rincuorato nel senso che poi avevo già avuto occasione di essere presente qui in Abruzzo e di aver visto la qualità del lavoro che viene fatto da soggetti come l'edic di Chieti e di Abruzzo perdone Termo praticamente ora si aggiungerà un terzo edic che è quello della maiella io credo che sia una parte estremamente importante una delle frasi o alcune delle frasi che più mi colpiscono stando qui in Italia dopo tanti anni è sentire dirsi o andiamo in Europa o ce lo chiede l'Europa che sono due frasi terribilmente sbagliate una perché non è che andiamo in Europa ci siamo in Europa più o meno dall'inizio non più o meno dall'inizio l'Italia è un socio fondatore dell'Europa e come tale l'Italia è un socio con un gettone molto importante è difficile prendere delle decisioni a Bruxelles se l'Italia è contraria dunque ce lo chiede l'Europa o non è l'Italia che va in Europa a chiedere che glielo chiedano fondamentalmente ora per comprendere questi meccanismi per riportare la difficoltà che molte volte poi sono anche trappelate quindi mancanza di conoscenze le banche dati chissà che esiste una banca dati europea che permette di cercare lavoro in altre parti di Europa basta andare su internet c'è una banca dati che ti dice quali sono le opportunità che esistono oggi in Europa per andare a lavorare in un altro paese l'Europa è molto più vicina ai cittadini di quanto molte volte si cerchi di far passare purtroppo molte volte manca l'ultimo miglio come si suol dire in telecomunicazione manca la possibilità di arrivare veramente al cittadino per spiegare per dire quali sono queste opportunità il lavoro che viene fatto qui non è un lavoro politico io vorrei togliere questo aspetto dal piatto è un lavoro di informazione ai cittadini su quelli che sono i loro diritti su quelli che sono le loro opportunità e su quello che sono le loro necessità eventualmente di conoscenza e questo è fondamentale questo non deve essere sprecato e anzi quello che vedo oggi fare non solo non lo spreca ma lo rinforza e questo è fondamentale perché l'Europa l'Unione Europea in Abruzzo è fondamentale tanto quanto l'Abruzzo nell'Unione Europea nel senso che ci vuole Abruzzo in Abruxelles e ci vuole Bruxelles in Abruzzo l'ultima domanda ciò che è stato realizzato oggi è fondamentale diciamo un passaggio come diceva anche pioneristico ma è sufficiente quali sono le prossime mosse da svolgere per far crescere ancora l'idea e il ruolo dell'Europa in un territorio come quello di una regione come l'Abruzzo nulla è mai sufficiente io naturalmente sprono tutti a non restare sugli allori che hanno così giustamente creato in questo periodo quello che è necessario fare è quello che sarebbe necessario fare dovete considerare che l'Unione Europea su certi aspetti alla fine è quasi un po' volontaristica perché aggettivamente qua ci affidiamo al lavoro importante fatto dagli edic dai centri di documentazione ma noi stessi come rappresentanza in Europa tra Roma e Milano siamo 50 persone per cui sarebbe molto importante sarebbe bello essere ancora più presenti essere più costanti nei vari territori italiani quello che c'è da fare di più nel limite di queste difficoltà che tutti quanti abbiamo è convincere i cittadini ad approcciarsi all'Europa diciamo che quest'ultimo miglio di cui stiamo parlando poc'anzi deve essere un ultimo miglio che dovrebbe essere fatto in parte delle istituzioni in parte dei cittadini convincere che esistono delle difficoltà non è facile comprendere l'Europa ma se ci si fa uno sforzo e noi dalla nostra parte aiutiamo questo sforzo di comprensione e riusciamo arrivare più o meno nella metà allora credo che avremo un vantaggio tutti quanti molto importante grazie ad Antonio Parenti che è il capo della rappresentanza della commissione europea in Italia per aver dato lustro a questa giornata e anche a questo talk show nel quale ripeto abbiamo appreso molte cose che nemmeno noi abruzzesi conoscevamo di quello che si fa sul nostro territorio che riguarda l'Europa io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime occasioni arrivederci